Serata a te, proseguiamo con il nostro telegiornale. Il bilancio tra imprese nuove e chiuse nel 2020 è cristallizzato all'anno precedente, ma i dati della Camera di Commercio di Torino offrono un panorama della Covid-economy piuttosto sorprendente. Maura Fassio. Chi si aspettava un consuntivo da brividi con centinaia di imprese chiuse dalla pandemia resterà sorpreso. Certo, con meno di 220.000 attività in provincia di Torino siamo ai minimi storici da 20 anni, ma il bilancio tra le imprese nuove e quelle cessate resta positivo per lo 0,16%. Probabilmente gli imprenditori e le imprese sono in attesa di riorganizzarsi, ma anche magari in attesa dei ristori che si aspettano e quindi preferiscono mantenere aperta e attiva la propria attività per vedere se ci sono dei supporti dal punto di vista del Governo. I settori di attività e inflessione sono soprattutto l'agricoltura e l'industria, meno 1,4%. Il commercio ottiene meno 0,6%, mentre quello online cresce del 13,6%. Il superlavoro all'anagrafe camerale ha riguardato soprattutto le variazioni dei codici Ateco passate da 200 nel 2019 a 1390. Le imprese hanno reagito a questi decreti che escludevano o includevano le attività di alcune imprese in base ai codici Ateco, quindi c'è stata questa corsa alla sistemazione o a attribuire dei codici di alcune aziende che non lo avevano. È anche stato strumentale a poter essere inseriti nel piano di aiuti. Si spiega così l'incremento dell'1,2% nel settore dell'edilizia dopo dieci anni di contrazione o in quello dei servizi di pulizia trasformati in sanificazione o nel turismo, dove i soli affittacamere sono aumentati del 6%. Tengono per ora le imprese artigiane, già diminuite del 3% in dieci anni, ma calano ancora nella meccanica. Dal 2011 al 2018 abbiamo perso sul territorio 18.000 imprese, quindi non c'è solo il problema del 2020, è un problema molto più profondo.